Le varie discoteche, anche se adesso sono chiuse, però ci ha fatto sempre ballare. Soprattutto questo brano, pubblicato, pensato nel 1977 e addirittura rimixato nel 2011 da uno dei più grandi DJ di fame nazionale, che è Bob Sinclair. Con oltre 20 milioni di copie, e come detto, tra le canzoni più ascoltate e ballate nel mondo, nel ricordo della grande Raffaella Carrà, con un arrangiamento sempre del maestro Lucatelli, la banda Enrico Gai si esibirà ora con A far l'amore comincia tu, dirige il maestro Luigi Lucarelli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.